La puntata di Rossi sarebbe dovuta aprire con il match per i titoli di coppia tra gli Usos e Matt Riddle ed Elias, però la Bloodline ha ben pensato di spappolare il povero Elias, estromettendolo dalla contesa. La stable Samoana ha detto che metter fuori gioco il Drifter è stato assolutamente Usai, ma Riddle chiaramente non si è dimostrato della stessa idea e dello stesso parere, dicendo che no, non è stato affatto Usai, mandando su tutte le furie semi-zane, però ha trovato un sostituto e il sostituto è Kevin Owens. Match per i titoli di coppia proprio tra i gemelli e questa nuova strana coppia appena formatasi, conclusosi con la vittoria dei campioni che hanno difeso le loro cinture grazie chiaramente all'intervento esterno di Solo Sikoa, che in realtà non è che sia stato del tutto fondamentale, però ha separato la coppia di Face col tuffo di Riddle sul fratellino degli Usos, che poi è tornato sul ring e si è beccato la 1D decisiva, il match in sé è stato sicuramente buono, un ottimo opener, 4 ottimi performer, non è durato tantissimo, meno di un quarto d'ora, cioè in realtà è abbastanza però, visti gli standard di Raw, per essere un match titolato poteva sicuramente prolungarsi un pochino di più, non so quando i campioni riusciranno, riusciranno, perderanno i titoli, però nell'aria non c'è mai stato quel sentore di vedere Riddle e Owens nuovi campioni, è stata una contesa di coppia piacevole, punto e basta. Nel post-match gli Usos hanno attaccato Riddle, Owens ha cercato di salvare l'original Bro con una sedia, rincorrendo i gemelli e semi-zain fino al backstage, e questo ha permesso a Solo Sikoa di offrire un tributo alla memoria del compianto Umaga con un Samoan Spike, l'attacco in corsa al paletto e poi una decapitazione a tutti gli effetti sul collo dell'ex compagno di Randy Orton, che è finito in barella perché si è ingoiato una sedia, semplicemente. Bel boost per Solo Sikoa. Si cerca la nuova number one contender al titolo di Bianca Belair, ci saranno due triple threat questa notte, e abbiamo visto Rhea Ripley prepararsi al suo. JBL sta tenendo un torneo di poker nel backstage, Dexter Loomis si è offerto di partecipare a questa partita, JBL all'inizio riluttante ha poi visto quanti soldi si è portato dietro lo stalker, probabilmente ancora dall'accordo con The Miz, e ha detto, ma sì, ma vai, sì, ieri ti farà a te. Come detto prima, primo match, uno contro uno contro uno, per trovare la finalista che andrà contro la seconda vincitrice del triple threat, per trovare la number one contender... Bayley contro Rhea Ripley contro Asuka. Prima di iniziare la contesa, Becky ha interrotto Bayley, presentandosi tra il pubblico, dicendole che è tanto tempo che queste due non combattono una contro l'altra. L'irlandese ha detto che Bayley ha traghettato la divisione femminile durante l'era del Thunderdome, ma solamente perché lei non era in giro. Bayley le ha detto di stare zitta perché è solamente gelosa dei suoi successi, e si augura proprio di incontrarla in finale. E proprio mentre The Man stava per abbandonare lo stage, si è incrociata con Rhea Ripley e gli sguardi non sono stati proprio amichevoli. E chiaramente con Asuka, Rhea Ripley e Bayley sullo stesso ring non poteva che venire fuori un signor match. Tra l'altro, secondo me, il finale è stato anche abbastanza inaspettato, se vogliamo. Pensavo vincesse Rhea Ripley, e invece questo incrocio Bayley-Beckey Lynch ci ha fornito la prima delle due vincitrici, proprio la leader della Damage Control. Grazie alla sua Rose Plant è riuscita a schienare Asuka dopo un quarto d'ora di bel wrestling, e sono anche contento per lei perché onestamente da quando è tornata come leader della nuova stable heel ha avuto opportunità titolate ma non ha brillato particolarmente. Chissà che questa non sia la prima parte della sua rinascita. È interessante anche come Bayley sia forse in faida con Becky Lynch, ma anche alla rincorsa del titolo. Quindi, begli intrecci, come al solito, stanno lavorando bene su questa cosa, cioè non focalizzarsi solo su un avversario o una storyline in particolare. Dopo un match, Rhea Ripley ha fracassato di mazzate Asuka. C'è stato comunicato che McIntyre non parteciperà al match per il titolo contro gli Usos a SmackDown, ma ci sarà Pete Dunne. Si è presentato Seth Rollins per dirci che settimana prossima avrà un incontro contro Bobby Lashley, da cui emergerà il number one contender al titolo di Theory. L'Almighty ha interrotto il visionario, e l'ex membro dello Shield gli ha detto che ci sta, va bene, capisce la frustrazione di Bobby Lashley dopo la sconfitta subita contro Brock Lesnar. Si capisce come sia geloso di non essere Brock Lesnar, di aver perso contro Brock Lesnar e di aver paura di Brock Lesnar. L'ex membro del Lord Business ha iniziato a perdere le staffe, e Rollins gli ha detto, va bene, incazzati, ma anche se dovessi vincere il titolo, non ti farà passare il bruciore di chiappe che ti ha generato The Beast. Da lì è partito il risone generale con l'Ashley che ha mollato una spiar ad un membro del WWE, boh, qualcuno che stava cercando di separarli, e Adam Pearce si è giustamente incazzato, non menategli il personale, poverino. Theory ha detto che ha tutte le carte in regola per essere il miglior campione degli Stati Uniti di sempre, per tenere quella cintura alla vita per eoni, Mustafa Ali non si è dimostrato molto d'accordo, e questo gli ha fatto guadagnare una title shot. Al tavolo di poker Dexter Lumis sta spennando chiunque, tra cui Baron Corbin che non l'ha presa benissimo, e ha iniziato ad urlare contro lo stalker che ha tirato fuori un'ascia. L'altro tavolo invece Tozawa ha sfidato Dominic Mysterio. Non la contesa dei sogni, diciamo. Austin Theory contro Mustafa Ali per il titolo degli Stati Uniti, purtroppo il match è durato pochissimo per l'intromissione esterna di Dolph Ziggler, che ha superchiccato Austin Theory facendo scattare la squalifica e facendolo vincere. Perlomeno Mustafa Ali non si è preso un altro schienamento, e onestamente non so cosa centri Dolph Ziggler con Theory. Mi ricordo che avevano biffato qualche mese fa, avversario di transizione del match, poco da dire. È durato poco, non ha avuto momenti incredibili. È finito così, in 4-4-8. Dopo il match Mustafa Ali si è incazzato per la sconfitta di squalifica, e Theory ha messo KO tutte e due concludendo il segmento con Laytown Down sullo show-off. The Miz si è presentato da JBL chiedendogli perché non sia stato invitato a questo torneo di poker. JBL gli ha detto perché non hai i soldi. Al che il Magnifico gli ha offerto il Rolex, che si è dimostrato un falso. Non sto capendo. Cioè, The Miz sta diventando Baron Corbin di qualche tempo fa? Da ricco a povero, Happy Corbin, Happy Miz... Boh, vabbè. Corbin ha litigato con AJ Styles, risultato, o sì, contro Corbin e l'Alpha Academy. 3 contro 3, che è durato quasi un quarto d'ora, però... È stato un po' merdoso. Niente da segnalare, oggettivamente. Vittoria per i Face, con la Magic Killer ai danni di Gable. Corbin sembrava destinato a chissà quali piani, invece sembra tornato sui binari dell'anonimato. E già non sono fan dei 3 contro 3, poi figuriamoci campati così per aria. E aggiungiamoci anche che questo è stato privo di robe significative. Dominic Mysterio contro Akira Tozawa. Due minuti di match vinto da Dominic Mysterio. Dopo il match il Judgment Day ha picchiato il povero nipponico e gli Street Profits si sono presentati in suo soccorso. Main event di serata. Becky Lynch contro Alexa Bliss contro Nikki Cross. Tra l'altro Alexa Bliss anche stanotte è stata teaserata da Bray Wyatt nel backstage. Dietro di lei un monitor ha flickerato col logo della Wyatt Six. E ancora non capisco bene cosa voglia dire questa roba. Fatto sta che questo Triple Threat a sorpresa non è stato vinto da Becky Lynch, bensì proprio dalla Dea. Che ha rubato il pin su Nikki Cross dopo l'intervento della Damage Control. E devo dire che è un risultato molto particolare, perché dopo la vittoria di Bayley ero convintissimo che avrebbe vinto D-Man. Sembrava una storia già scritta, cioè ok ha vinto Bayley, vincerà D-Man, settimana prossima uno contro l'altra. Viste le premesse di inizio puntata, invece no. Ed è una cosa positiva all'effetto sorpresa. Comunque sia ho preferito l'altro Triple Threat, questo è durato abbastanza, quasi 20 minuti, però non mi è piaciuto come il primo. È stata sicuramente una signora contesa. È anche vero che per quanto riguarda il talento puro probabilmente qui ce n'era meno. C'è stato anche un bello spot mezzo estremo con la powerbomb sul tavolo dei commentatori ai danni dell'irlandese. Ma sinceramente non capisco il ruolo di Nikki Cross. È affiliata alla Damage Control? È ill? È face? Boh, è un po' una saetta pazza. Ma poco importa, era quella con meno chance di vincere, infatti si è presa lo schienamento finale. E la puntata si è conclusa così, con Alexa Bliss, che sfiderà Bayley settimana prossima. E scopriremo chi sarà la nuova number one contender al titolo della IST, Bianca Belair. Che dire, una puntata forse poco più che sufficiente, non mi ha fatto impazzire particolarmente. Mi è piaciuto molto il primo Triple Threat femminile, come ho appena detto. Segmenti abbastanza inutili come quelli del poker, che hanno costruito contese inutili come Akira Tozawa contro Dominic, Oloci contro Gable, Otis e Corbin. E poco altro. Bella la bloodline che massacra Elias prima e Riddle dopo. Il tag di match degli Usos è stato sicuramente buono, ma si può fare meglio. Nulla di eclatante da segnalare. Grazie mille per essere passati dal vostro Sertify2. È tutto, ci sentiamo presto, probabilmente giovedì con un nuovo video. E non posso far lato che salutarvi col solito calorosissimo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti